Buongiorno a tutti, prima di iniziare vorrei che andasse un video molto breve. Mi pregio di dirvi che questo video con un po' di orgoglio rappresenta un po' l'italianità dei nostri asset. È un po' un modo per spostare l'attenzione da quello a cui oggi siamo tutti concentrati, parliamo di debito, parliamo costantemente di riduzione del debito e questo ovviamente ci sta catalizzando l'attenzione su come faremo ad abbattere quello che per noi, come ha detto anche il professore, è sicuramente una nota dolente nel nostro sistema, però abbiamo anche un patrimonio pazzesco e da quando ho questo incarico, arrivando dal settore privato, devo dire che ho guardato con occhi, con grande interesse questo patrimonio, ma soprattutto con grande entusiasmo perché abbiamo veramente tanto da fare come italiani, ma abbiamo oggettivamente degli asset che ci invidiano nel mondo e quindi con questo video abbiamo voluto un attimo rappresentare che cosa è InVimit, vedrete alcuni degli asset che abbiamo nel nostro portafoglio e vi manderemo qualche messaggio che poi vi spiegheremo dopo. Grazie. 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 Inizio questo intervento facendovi vedere quello che ho visto io quando sono entrata in questo mondo cosiddetto pubblico. Sono stata al MEF e il primo documento con cui mi sono interfacciata è questo documento che è sostanzialmente il rapporto sui beni immobili delle pubbliche amministrazioni. È un documento che conoscono in pochi, probabilmente non adeguatamente pubblicizzato, però mi preme farvelo vedere perché arrivando al settore privato vorrei che vedeste con gli stessi occhi con cui ho visto io questi numeri di che cosa stiamo parlando. Abbiamo 284 miliardi di euro di asset, oltre 340 milioni di metri quadrati, cioè sono numeri pazzeschi che ci dicono però una cosa, se guardate il segmento B che sono gli immobili istituzionali non più in uso alla pubblica amministrazione e il segmento D che sono quelli residenziali e commerciali non in uso alla pubblica amministrazione, i due sommati fanno largo circa 60 miliardi, 60 miliardi di euro che non sono più in uso alla pubblica amministrazione e possono essere, sono utilizzati in parte dal settore privato, possono rendere meglio, possono rendere di più, possono essere gestiti in una maniera che noi chiamiamo market friendly. Questo è quello che ho visto e su cui mi sono soffermata quando sono entrata, il 77% di questi immobili sono degli enti territoriali, questo vi fa capire il ruolo che giocano i comuni, le province, le regioni in questo ragionamento e quindi sono partita da qua per cercare di capire quale fosse la strategia migliore, anche guardando quello che era stato fatto in passato, perché non ve lo nascondo che insomma un po' tutti mi hanno detto che le dismissioni non hanno mai funzionato, che SHIP, FIP, ci sono tutti gli acronimi di questa terra praticamente che dimostrano che ci sono stati poi dei problemi successivamente, insomma parti e la strada è in salita perché tanto ti dicono non ce la farai. Però secondo me dagli errori, se vogliamo chiamarli errori, perché poi ho letto un bellissimo articolo che scriveva proprio il professore, il professor Tremonti qualche settimana fa, diceva ogni scelta va contestualizzata, cioè adesso col senno di poi sono tutti bravi a dire che quello non funzionava, quell'altro non funzionava. Però oggi dovendo ripartire e avendo un foglio bianco di fatto davanti, ma che cosa facciamo? Partiamo da questi 60 miliardi, perché poi parleremo anche del resto, cioè i 220 miliardi che sono in uso alla pubblica amministrazione possono essere utilizzati anche loro meglio, si può fare una razionalizzazione degli spazi, si possono rimettere sul mercato dei beni che oggi sono sottoutilizzati, insomma si può fare veramente tanto. Però quello che mi preme sottolineare è che noi non siamo qui a far parte del mercato, a prendere una fettina del mercato, noi stiamo ampliando la torta, quindi è una torta che cresce, quella che anche gli americani quando dicono grow the pie, è esattamente questo l'approccio, perché questi beni che sono sempre stati off market, che sono stati poco valorizzati, che non hanno seguito quelle che per noi sono le linee guida che utilizziamo nella gestione del patrimonio privato, possono essere utilizzati e possono essere gestiti meglio. E quello che dico una SGR fa questo, quella G di gestione è veramente la missione, la ragione d'essere di una SGR ed è quello che noi oggi ci proponiamo di fare. Cosa fa InVimit? InVimit nasce da un'intuizione secondo me molto importante del MEF, perché noi siamo 100% MEF, quindi è un'intuizione in cui dice creiamo un trade union fra quelli che sono gli asset pubblici e il mercato e quindi nasce InVimit che comincia ad accumulare patrimonio, senza però mai andare sul mercato. Oggi abbiamo circa un bilione e mezzo, quindi abbiamo circa 300 asset come vedete e abbiamo ricavi sui nostri fondi, abbiamo 9 fondi per circa 33 milioni di euro. In realtà abbiamo 8 fondi diretti e un fondo di fondi, perché noi non andiamo solo sul mercato a vendere i nostri asset, forse in pochi lo sanno, ma noi abbiamo equiti da investire, perché noi investiamo le riserve di Inail e abbiamo centinaia di milioni di euro da investire sul nostro territorio, che finora non sono stati spesi. Quindi è un approccio win-win, da una parte andiamo sul mercato e chiediamo agli investitori di investire, ma siamo pronti a metterci anche noi skin in the game, perché abbiamo equiti, non stiamo soltanto vendendo quote o vendendo immobili. E questa è una parte della storia che probabilmente in pochi conoscono e che mi preme di far arrivare oggi voi che siete degli investitori. Gli uffici che sono in uso alla pubblica amministrazione più o meno saranno un terzo di quelli che abbiamo in portafoglio e che allo stato attuale sono fuori dalle dinamiche di cessione, di cui vi racconterò per ovvi motivi. Noi ci concentriamo sul nostro portafoglio, dove abbiamo Senior Housing, abbiamo un fondo che si chiama Silver, dove lavoriamo sulla parte di Senior Housing, abbiamo uffici, residenziale, abbiamo tre aree a sviluppo, una a Venezia, una a Bologna e una a Milano, che sono tre aree già con diritti edificabili, almeno due su tre direi. E quindi andiamo anche verso le forme innovative di immobiliare, insomma un immobiliare che si trasforma e ci trasformiamo anche noi. Lo facciamo anche utilizzando, volendo essere innovativi, perché questo non ci deve spaventare, l'innovazione, già siamo arrivati tardi, l'innovazione era già ieri, si è andata in Europa, basta varcare i confini dell'Italia per vedere come i grandi fondi stiano facendo degli investimenti sulla parte digital, anche nel real estate, tutto quello che è il prop tech sta avanzando a una velocità incredibile. Ecco, questi siamo noi, con questo miliardo e mezzo di asset e siamo un centro di competenza nella gestione degli asset pubblici. Questa è la nostra forza, perché noi sappiamo interagire con gli enti, gli enti locali, sappiamo recuperare questi immobili, sappiamo portarli nei nostri fondi, gestirli e gestire quelle dinamiche territoriali che magari per un investitore privato sono più complesse. Vi dico anche che noi non abbiamo le classiche caserme, tutti mi chiedono se abbiamo le caserme, non ce le abbiamo. Abbiamo dei comunisti immobili, molto spesso localizzati nei centri delle città, zone anche semicentrali, possono essere periferiche, possono essere in tutta Italia, ma abbiamo degli immobili più tre aree a sviluppo. Questo è il nostro portafoglio. Quindi perché nasce questo piano di valorizzazione? Scusate, ma io la parola dismissione l'ho abbastanza eliminata dal vocabolario della nostra SGR. Dismissione è proprio una cosa dove, secondo me, è abbastanza riduttiva rispetto a quello che stiamo facendo. Il nostro è un piano di valorizzazione, oserei dire che si valorizza anche quando si dismette, perché se io cedo l'immobile a qualcun altro che è capace di valorizzarlo, sto comunque vendendo sì un asset, sto vendendo un rendimento, ma il nostro rendimento come Paese sono le esternalità positive che si generano quando un immobile ha una nuova vita. Quindi la valorizzazione può passare anche da una dismissione, ma non stiamo qui a dismettere il patrimonio pubblico solo. Ripensiamo quindi la strategia immobiliare per gli asset pubblici, riaffermiamo la strategicità sul territorio di avere un asset pubblico e il valore, il volano che può costituire un immobile su un asset pubblico. Rappresentiamo gli investitori istituzionali che ci siamo anche noi sul mercato e che siamo un'opportunità di investimento e vi faremo vedere non appena saranno pronti tutti i nostri prospetti informativi sul fondo che collocheremo che l'upside con una corretta gestione che si può tirare fuori dagli asset pubblici è pazzesca. E possiamo anche contribuire al miglioramento dei conti anche per la parte corrente, perché quando ho generato dei flussi positivi io ho cominciato a generare un flusso che è esattamente opposto a quello del pagamento degli interessi. Possiamo contribuire positivamente attraverso una gestione corretta anche al miglioramento del conto economico del nostro Paese. Lo facciamo facendo anche innovazione. Oggi da poco che siamo nella nuova gestione abbiamo sostanzialmente lanciato due progetti. Un primo progetto innanzitutto la semplificazione, perché la semplificazione è la vera innovazione. E come facciamo a semplificare? Semplifichiamo innanzitutto l'accesso, il vostro accesso e l'accesso dei clienti che vorranno acquistare da noi. Parliamo di clienti retail a Invimit. Lo facciamo attraverso un'app. Oggi utilizziamo tutte le app per fare tutto. Queste app su alcuni immobili hanno anche dei tour tridimensionali che abbiamo fatto caricare proprio per mostrarvi per alcuni immobili la bellezza di questi incredibili asset che abbiamo in portafoglio. L'app è già scaricabile da credo almeno un paio di mesi. Ovviamente ci sono dei fine tuning da portare. Si potrà entrare sia come investitori sia come clientela privata e entrare in contatto direttamente con noi. L'ambizione è quella che ogni investitore si possa fare il suo portafoglio sostanzialmente e quindi a questo punto pingarci ma direttamente con un portafoglio di interesse. E non lo facciamo solo attraverso un'app che fatemi dire è uno strumento ed è anche un messaggio. Siamo trasparenti, siamo affidabili, le nostre informazioni sono note a tutti e a tutti nello stesso modo. Siamo accessibili. Ma l'altra cosa che stiamo mettendo in piedi è l'utilizzo dei data analytics. Vi immaginate voi entrare sul database immobili pubblici, trovare qualche miliardo diciamo da andare a fare scouting e farlo con gli strumenti che abbiamo. È letteralmente impossibile. E quindi gli analytics sono la vera risorsa che oggi abbiamo. Abbiamo lanciato un progetto sul senior housing dove sostanzialmente facciamo un check su 15 parametri in raggio di 20 chilometri dall'immobile. Andiamo a guardare i local analytics, andiamo a vedere come è fatta la popolazione, come sono fatte le aree commerciali, gli strumenti, quelli che sono le destinazioni d'uso più ricorrenti intorno a noi. Ma la destinazione d'uso, quando andate all'estero gli parlate all'investitore della destinazione d'uso catastale. Cioè la conversazione finisce lì, non c'è neanche un seguito. La nostra destinazione d'uso è quella più coerente con un sistema di analytics, è un algoritmo che sostanzialmente restituisce un indicatore di possibilità d'uso. Poi andremo a vedere anche se il comune ci aiuterà per fare magari un cambio di destinazione che è necessario. Però vi dico anche una cosa, che il comune quando apporta il bene resta quotista, gli viene dato al massimo il 30% cash, quindi se vuole monetizzare la sua quota deve collaborare. E questo è uno degli ingredienti del successo di questa operazione. cosa pensiamo di fare? Queste sono le nostre linee guida strategiche. Innanzitutto gestire bene quello che abbiamo. In secondo luogo certamente andiamo a gestire quello che abbiamo ma vi dico anche che abbiamo portato gli enti territoriali a bordo. Abbiamo 4-5 città che sono le città principali d'Italia che sono già on board. Stanno definendo la pipeline di apporti, abbiamo oltre un miliardo di euro in apporto, oltre al miliardo e mezzo che gestiamo. Come abbiamo fatto? Siamo andati noi fisicamente nei comuni a spiegare che cos'è una SGR, che cos'è una IARAR, che cos'è un progetto e li abbiamo coinvolti. Nel momento in cui questi enti entreranno a far parte dei nostri fondi avranno dei comparti dedicati con i loro conti economici. Noi faremo cherry picking da tutto il portafoglio, quello esistente e quello in apporto per creare il fondo nuovo. Il fondo nuovo che sarà collocato con almeno 500 milioni di euro, sarà collocato su investitori privati che vorranno aderire all'iniziativa. Vi voglio anche dire che questa è un'iniziativa del governo, un'iniziativa certamente MEF, un'iniziativa di tutti, perché questa è, io dico sempre quando vado ai comuni, questa è la nazionale e nella nazionale si gioca per i 950 milioni che dobbiamo mettere insieme entro fine anno. Non è l'obiettivo di Invimit, questo qui, ma per quelli che giocheranno nella nazionale, che ci crederanno e che avranno il coraggio di credere in questa iniziativa, vi posso assicurare che ci sarà anche la possibilità di collaborare con noi, perché c'è talmente tanto da fare che noi come SGR non possiamo fare tutto. Abbiamo già lo studio, due progetti in fase molto avanzata, dove la SGR proponente propone l'investimento e noi mettiamo equity. E poi sarà la SGR proponente, dopo aver fatto una gara, con un right to match ovviamente, a gestire oggettivamente il fondo. Quindi noi possiamo anche costituire un volano per le altre SGR che identificando i mobili pubblici vorranno sottoporci dei progetti di valorizzazione. Anche in questo caso abbiamo equity nostra. Il collocamento della quota dei fondi, come sarà questo fondo nuovo, che molto probabilmente si chiamerà Dante. Ormai il mio team è abbastanza sicuro di questa cosa per vari motivi. Anche perché noi vogliamo essere anche digital, vi sembrerà forse un salto anche troppo in avanti. E allora nasceva questo acronimo all'inizio, quando abbiamo detto Dante. Dante perché era Digital Access to National Treasury Estate. E Dante perché per noi vuol dire tantissimo e Dante vuol dire tanto nel mondo. Ma anche perché siamo un po' dei fondatori di un approccio nuovo al mondo pubblico e al mondo del real estate. Cosa entrerà in questo fondo nuovo, in questo fondo Dante? Entreranno tutti gli immobili che sono localizzati in centro, ma centro, centro delle città, siano essi a reddito o non a reddito, belli o brutti. L'importante è che siano in centro. Questi entreranno nel fondo nuovo che verrà collocato sul mercato. Tutto il resto verrà invece collocato attraverso portafogli. Abbiamo già diversi investitori che sono arrivati, stanno guardando i nostri portafogli, ma noi lì facciamo reverse engineering. Dimmi che strategia hai, dimmi cosa stai cercando e io te lo cerco. Posso averlo in portafoglio, posso averlo in apporto, posso andare a guardare il database immobili pubblici. Dimmi dove stai cercando e cosa cerchi. E noi siamo il gateway per arrivare agli immobili pubblici. E anche le vendite dei singoli asset, ovviamente. I nostri asset saranno visibili sul sito, per la parte invece retail, quindi la vendita di case, abitazioni, posti auto, insomma, per la clientela. Tutto questo sarà accessibile online, verrà già da metà di giugno. Sul sito troverete il prezzo minimo di offerta e chiunque vorrà fare un'offerta su quel tipo di asset potrà farlo nelle mani di un notaio. Non passerà niente da noi. Al giorno dell'apertura delle bus sarà una seduta pubblica. Ovviamente potrete vedere l'appartamento, perché ci sarà un call center dedicato, il property che farà parte della squadra e quindi tutto questo processo avverrà in completa trasparenza. Quando ci sarà la seduta pubblica, l'apertura delle buste, il valore più alto costituisce base d'asta. Questo è il meccanismo che verrà messo in piedi e che partirà alla metà di giugno. Con il supporto dei notai sarà tutto fisico, perché? Perché le aste online non sono uno strumento che oggi le famiglie utilizzano per comprare una casa, almeno non ancora. E quindi abbiamo voluto capire quale fosse l'approccio delle famiglie e andargli incontro, non imporre un metodo che probabilmente non avrebbero in qualche modo utilizzato. E poi, come vi dicevo, ci sono le partnership con l'SGR di mercato. Questo è un aspetto importantissimo, perché noi abbiamo un miliardo e mezzo, possiamo gestire due miliardi e mezzo, ne possiamo gestire tre, ne possiamo gestire quattro. Però, come vi ho fatto vedere prima, 280 miliardi di asset adesso, se proprio ci focalizziamo su quelli non più in uso, sono sempre 60 miliardi. Ovviamente non è una partita che possiamo giocare da soli, ma dobbiamo giocarla con due elementi, la coerenza nella gestione del patrimonio immobiliare e la costanza. E non smettere di pensare costantemente al debito e guardare all'attivo dello Stato patrimoniale. Se noi riusciamo a far rendere l'attivo dello Stato patrimoniale come deve rendere, diventiamo un altro Paese. E vi dirò di più, il vero attivo dello Stato patrimoniale siamo noi, con le nostre competenze che vendiamo nel mondo, quello che vi chiediamo di mettere al servizio, come stiamo facendo noi per il nostro Paese. Un'ultima slide, questa veramente soltanto per farvi capire che cosa faremo. Quale sarà il ruolo di InVimit? Scouting degli asset e gestione di mercato. Stop alle morosità, stop ai canoni under-rented. Non ci saranno più canoni fuori mercato. Noi questo lo diremo a tutti. Se il conduttore non paga il canone non può esercitare l'opzione di acquisto. Se il conduttore non paga il canone attiviamo la procedura di recupero crediti. Si è appena chiusa una gara con i principali player del mercato. Quindi stop alle due cose che certamente fanno male ai rendimenti. Cosa ci impegniamo a fare noi? Manutenzioni. Ci impegniamo a servire il cliente. Perché l'attivazione di un contratto di locazione è l'attivazione di un servizio. Il conduttore è un cliente. E questo è quello che noi ci impegniamo a fare. Collocamento delle quote dei fondi. Noi facciamo la selezione degli asset. Ogni volta che un comune ci apre la porta ci arrivano 100 asset alla volta. Quindi noi facciamo la selezione per il fondo, per il portafoglio, per la vendita retail. E li aiutiamo a definire le migliori strategie. Facciamo invece per coloro che vogliono investire direttamente in reverse engineering. Quindi vogliono entrare in Italia, vogliono crescere in Italia. Capiamo insieme cosa possiamo fare noi per voi. E invece con le SGR di mercato ovviamente supporto nel processo ma anche contribuzione con equity. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dato. E spero che siano arrivati diciamo due o tre principi e due o tre concetti che oggi ci stanno guidando in questa piccola rivoluzione nel real estate pubblico. Noi ci crediamo e tanti di noi hanno lasciato il settore privato per affrontare veramente con grande coraggio questa iniziativa. e quindi vi chiediamo di guardare con gli stessi occhi con cui stiamo guardando noi nel patrimonio facendo leva su quello che è poi un paese stupendo che abbiamo. Quindi ci vuole poco a guardarlo con questi occhi. Grazie.